Ciao, sono Omar. Nei miei video cerco di trasmettere la mia esperienza lavorativa da tecnico di radiologia medica per informare ed aiutare le persone a svolgere esami di risonanza magnetica con più consapevolezza. Oggi parleremo di un tema sempre di ottalità in risonanza magnetica, la claustofobia. Soffrite di claustofobia e dovete sottoporvi a una risonanza magnetica? Ecco gli 8 consigli per poter svolgere l'esame più serenamente. Ho lasciato per ultimo il consiglio che mi viene proposto direttamente dai pazienti claustofobici e risulta molto utile per portare a termine ogni tipo di esame. Primo consiglio, molto semplice e molto scontato, è di andare a visitare i locali dove si svolgerà l'esame. Il primo consiglio che mi sento di dare a tutte quelle persone claustofobiche che non conoscono l'ambiente dove si svolgerà l'esame e di andare a vedere prima del giorno dell'esame i locali dove si svolgeranno. Chiaramente se l'ospedale, la clinica o il centro diagnostico lo permettono. Impianti più o meno recenti possono fare una grossa differenza per tutti coloro che hanno difficoltà a rimanere in ambienti chiusi. Sono presenti sul mercato apparecchiature magneti considerati aperti che possono per determinati esami dare un comfort maggiore, vero? Ma questo purtroppo non è valido per tutti gli esami, come ad esempio per gli esami cerebrali o cervicali dove non c'è un vero e proprio beneficio, mentre il magneto aperto è utile per tantissimi altri esami, ad esempio delle estremità delle braccia o delle gambe. In questo video non entrerò in merito nella qualità d'immagine delle risonanze aperte o chiuse, ma lo farò in un altro video dedicato. Prima di passare al secondo consiglio vorrei descrivere velocemente le apparecchiature che vengono utilizzate in risonanza magnetica per rendere più chiari i prossimi consigli. Cosa intendo con magneti? Quando entrate nel locale dove verrà svolto l'esame, la parte più grande e voluminosa è composta dal lettino, dove il paziente dovrà rimanere immobile durante l'intera durata dell'analisi, e dal magnete, che tante persone descrivono come un buco o un tunnel. Il lettino è la parte della risonanza magnetica dove verrete comodamente adagiati per poter entrare e uscire dal magnete. Con il passare del tempo i differenti costruttori di risonanze magnetiche si sono chinati sul problema della crostofobia e del comfort del paziente. Infatti le aperture, gli accessi, le entrate nei magneti sono passate da 60 cm ad avere un'apertura un diametro di 70 cm. Gli vecchi magneti in alcuni casi avevano delle profondità di due metri o addirittura erano chiusi nella parte posteriore. Oggigiorno fortunatamente si possono trovare sul mercato magneti profondi solo 1,20-1,40 m. Chi si sottopone all'esame ha quindi una maggior sensazione di apertura ed è meno sottoposta a delle problematiche di claustrofobia. Ma adesso andiamo avanti e iniziamo la parte più importante del video, i consigli. Consiglio numero 2. Il dialogo e la comunicazione con il tecnico di radiologia che esegue l'esame. Se si è claustrofobici, ansiosi ed emotivi è fondamentale parlarne apertamente con il tecnico di radiologia che si occuperà dello svolgimento dell'esame. Se l'operatore è al corrente di queste problematiche sarà più semplice poter trovare delle soluzioni per mettere a proprio agio il paziente. Ci sono dei piccoli accorgimenti che andrò a spiegare a breve, ma il dialogo è fondamentale e estremamente utile per portare a termine l'esame. Consiglio numero 3. Il campanello d'allarme. Durante tutto l'esame si ha un contatto continuo con il tecnico di radiologia ed è importante che la persona abbia la consapevolezza di non essere sola. Una volta posizionato il paziente sul lettino, il tecnico di radiologia dovrà uscire ed andare ad eseguire l'esame e non potrà rimanere all'interno della sala d'esame. Apro una piccola parentesi per spiegare che generalmente per bambini in età pediatrica un genitore potrebbe rimanere all'interno della sala d'esame, così da permettere al bambino di mantenere un contatto visivo con una persona cara ed aiutarlo a rilassarsi. Questo modo di procedere potrebbe essere applicato anche a un adulto, ma comunque sono veramente delle eccezioni. Prima di iniziare l'esame ad ogni paziente viene consegnato un campanello d'allarme. Questo permette di rimanere sempre in contatto con il personale di radiologia e di allarmare immediatamente ed interrompere se necessario l'esame. Consiglio numero 4. L'importanza della regione anatomica da esaminare. In risonanza magnetica la regione anatomica che dovrà essere esaminata si dovrà trovare esattamente in mezzo al magnete. In alcuni casi si entrerà nel magnete sdraiati sul lettino prima con i piedi, per altri esami invece prima con la testa. Per un esame cerebrale ad esempio la testa si dovrà trovare in mezzo al magnete e si entrerà nel magnete prima con la testa. Inoltre nella stragrande maggioranza degli esami le regioni anatomiche da esaminare vengono avvolte, vengono inserite all'interno di supporti di plastica chiamate bobine o antenne. Nel caso degli esami per la testa e del collo il paziente dovrà indossare una specie di casco da moto. Se invece dovrete fare una risonanza magnetica del piede o della caviglia anche quest'ultimi si troveranno esattamente in mezzo al tunnel, in mezzo al magnete durante l'esame e si entrerà nel magnete prima con i piedi. Generalmente per esami di questo tipo a dipendenza della profondità del magnete e dalle dimensioni del paziente la testa e il tronco si troveranno quasi sicuramente all'esterno del tunnel. Di conseguenza a dipendenza della regione anatomica da esaminare e dalle bobine da utilizzare ci saranno per il paziente installazioni più semplici e più complesse da sopportare. Consiglio numero 5. Rilassarsi e pensare a qualcosa di piacevole. Se l'esame che deve essere svolto prevede di doversi trovare con la testa o con il cranio o con la colonna cervicale all'interno del magnete io consiglio sempre di tenere gli occhi chiusi e di pensare a qualcosa di rilassante e di piacevole. Le ultime vacanze, le prossime vacanze e via dicendo. Anche perché all'interno del magnete non c'è niente di interessante da vedere. Nel suo interno ci sono delle pareti di color bianco e niente di più. Per ridurre il forte ed intenso rumore presenti in tutti gli esami di risonanza magnetica è quasi sempre possibile utilizzare delle cuffie ed ascoltare della musica rilassante. In alternativa sarà comunque indispensabile usare dei tappi auricolari insonorizzanti. Consiglio numero 6. Evitare le cattive influenze. Non fatevi influenzare da terze persone. Ogni persona ha delle percezioni molto diverse dall'esame di risonanza magnetica. Un problema da non sottovalutare è il timore trasmesso da pazienti che hanno già svolto l'esame e che non hanno avuto un buon ricordo. I commenti negativi spesso vengono amplificati. L'esame dura ore, c'è un rumore insopportabile, ti mettono in un buco, eccetera. Nella mia esperienza lavorativa ho visto più volte persone arrivare terrorizzate dall'idea di affrontare l'esame ma che poi riescono a svolgerlo in tutta tranquillità. Consiglio numero 7. Scoprire l'ambiente. In parte è un approfondimento del primo consiglio dove proponevo di visitare l'ambiente dove si svolgerà l'esame. Ma il giorno dell'esame bisogna andare oltre e non limitarsi unicamente alla parte anteriore del magnete e del tavolo d'esame. Ma prendere coscienza anche della parte posteriore del magnete e delle sue dimensioni. Così facendo ci si renderà conto che durante l'esame non si è rinchiusi all'interno di questo tubo o di questo tunnel, come lo chiamano alcuni pazienti, in quanto il magnete è aperto da entrambi i lati. La semplice consapevolezza di non essere rinchiusi rilassa enormemente tante persone ansiose. Per paura molto spesso i pazienti non guardano al suo interno o attraverso il tubo, anche se questo li aiuterebbe a comprendere meglio come è strutturato l'apparecchio e a tranquillizzarsi. Prima di darvi l'ultimo consiglio ricordatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Consiglio numero 8. Coprire gli occhi. L'ottavo aiuto che in alcuni casi mi viene proposto direttamente dalla persone che hanno già eseguito un esame di risonanza magnetica è di coprire gli occhi. Ad alcune persone potrebbe aiutare e ad altre invece no. Ecco perché ho deciso di metterlo come ultimo consiglio. Il consiglio numero 4 era quello di chiudere gli occhi. È anche vero che in caso di claustrofobia e per paura le persone potrebbero aprire involontariamente gli occhi trovandosi all'interno del magnete. Questa situazione di stress potrebbe portare una persona a suonare il campanello d'allarme e a voler interrompere l'esame. Coprendo invece gli occhi ad esempio con un piccolo asciugamano, basta che sia di un materiale compatibile con gli esami di risonanza magnetica permette al paziente che apre inadvertitamente gli occhi di poter comunque continuare e concludere l'esame. Questi sono alcuni aiuti che possono facilitarvi ed aiutarvi nello svolgimento di questa indagine radiologica. Ce ne sarebbero degli altri ma questi sono dal mio punto di vista quelli più efficaci. Non esitate a inserire nei commenti qui sotto altri consigli ed aiuti che sono stati utili per voi ad affrontare un esame di risonanza magnetica nonostante la crostofobia così da poter aiutare anche altre persone che soffrono di questo problema. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di cliccare su mi piace. Un saluto e a presto per il prossimo video.